Una persona è stata travolta poco prima delle 14 da un treno sulla linea ferroviaria Verona-Vicenza tra le stazioni di Altaville-Vicenza. Nell'immediato la linea è stata sospesa, tutti i treni sulla linea Milano-Venezia portano ritardi fino a 120 minuti. I treni alta velocità Eurocity regionali hanno registrato forti ritardi. L'incidente, probabilmente dovuto a un gesto volontario, è accaduto alle 13.45 sul posto SUEM Polizia Ferroviaria. Sono in corso accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria dopo i quali la linea sarà riaperta. Per quanto riguarda l'ultimo aggiornamento delle 16, ricordiamo che la circolazione permane rallentata, ancora in corso accertamenti. I treni alta velocità Eurocity regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti. I treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni.